Ciao ragazzi, sono io Gabriele Maestroni e oggi siamo su GeoGuessr. Cos'è GeoGuessr? Niente di così facile, praticamente è un'app in cui c'è un videogioco in cui dobbiamo indovinare le posizioni in cui ci mette Google, tipo a Bergamo, in una zona e noi ci dobbiamo vedere dove è. E quindi oggi, come avete letto dal titolo, oggi praticamente faremo i stadi di serie A e di serie B per fare il tema calcio ancora. Quindi iniziamo immediatamente. Eccoli qua, stadi italiani in serie A e serie B, creato da Pietro Pietro e sono in tutto 173 stadi. Ovviamente non li faremo tutti oggi, li faremo tipo un bel po'. Quindi iniziamo. Allora, iniziamo. Ok, lo stadi è sotto di noi e non so di che... Allora, sono italiane sicuramente, questo è sicuro al 100%. Allora, di serie A? No, non si legge. Aspetta, si legge? Bursi, Leggea... Vediamo un po' qua. Oddio, non si vede niente. Ah, guarda qui, Viola! Fiorentina! Secondo me è lo stadio della Fiorentina, perché lo stadio della Fiorentina è così. Però, no, no, non è quello della Fiorentina, perché quello della Fiorentina è molto più lungo. Non lo so, sapete che non so cos'è sto stadio? Penso che sia uno della serie A o di serie B. Allora, se è una zona di porto, una zona portuale, perché c'è il mare. Non so se è una zona in cui sono stato, ma non credo. Non è che forse è quello di... Sapete che non lo so? Penso che sia uno stadio che... Allora, sicuramente ci sono stadii anche vecchi. Sai che però non lo so, allora praticamente questa cosa è stata creata un po' vecchia. Ho visto tipo l'anno, è anche un po' vecchia. Però non so che stadio potrebbe essere questo. Non lo so. Penso che sia quello... Una delle belle azioni. Tipo qua, Ravenna. Secondo me è Ravenna, una di queste due. Secondo me... Mettiamo qua Ravenna. Vediamo. A Livorno. Lo stadio di Livorno. Madonna, ragazzi, sono uno scemo. Allora, dov'è lo stadio? Eccolo qua. Ah, vabbè, si vede già dove siamo. Udinese calcio. Uffici. Nella parte tipo VIP, mi sembra. Che poi ci sono anche andato io. Allora, però non mi ricordo in che parte era Udine. In che parte era di Udine. Forse era all'uscita di Udine. Qua fu... Ah, eccola qui. Dacci Arena. Però, aspetta, devo vedere... Ma dove... Allora, questo è il parcheggio ospiti, giusto? Se questo è il... Tipo l'ufficio... Ci dovrebbe essere scritto. Successione... Così. Vediamo. Esatto. È giusto. Un po' più... Un po' più giù, però vabbè. Next round. Aspetta. Pe... Ma no, non è di questa squadra. È di serie... Sai che non so? Allora, è uno stadio piccolo. Aspetta, fa... Ah, adesso mi ricordo. C'è un video, però non mi ricordo. Aspetta. Il ZV, sì, sì, è tipo il campo del Cittadella. Sì, sì, quello di Cittadella. Sì, sì, è Cittadella. Ma non mi ricordo dov'è Cittadella. Cazzo. Forse a Vicenza, ma non credo. No, sicuramente no, non è quello. Sì, allora, io non so se è proprio... Oh, cazzo, non lo so. Allora. Non è che fuori te... Allora, amico... Allora, so che è tipo tra... Sicuramente è qua, da qualche parte. Dovrei proprio trovare la città, dovrei trovarla. Ecco, Cittadella, Cittadella, Cittadella. Che culo. Allora, eccolo qua. Stadio Cesare Timbolato. Però è una... Non so in che parte. Qua. Ah, in mezzo al campo. Vabbè. Cioè, ma perché mi dice che gli spalti sono qua che è in mezzo al campo? Vabbè, chissene. Ok, eccoci qua al prossimo stadio. Qua possiamo muoverci rispetto agli altri, eh. E meno male che ci mi posso muovere. Io vorrei trovare tipo un cartello che mi faccia indovinare dov'è. Allora, guarda qui. Pisa, Pisa, Pisa. Lo stadio del Pisa. Allora, dov'è Pisa? Pisa, ecco qua. Pisa, 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 Pisa. Allora, però il problema è dov'è il Pisa? Dov'è lo stadio del Pisa? Cazzo. Allora, sarà uno di questi qua. Questo? Ah! L'ho già trovato. Però aspetta, in che parte? Allora, qua dove c'è la curva. Ci ho detto una strada. Qui, allora sarà l'unico qui. Sì! Madonna, 45 metri di differenza. Quasi punteggio pieno. Eccoci qua. Un altro stadio e mi sembra che questo sia di un'altra di serie B. Allora. Stadio... Armando Picchi. Oh, cazzo. Armando Picchi. Puttana Troia. Allora, lo stadio... Aspetta! Aspetta, aspetta, aspetta. Mi ha fregato prima. È quello di Livorno. Da fuori. Mi volevano... Tentare di sbagliare invece. E invece me ne sono ricordato. Invece... Ragazzi, scusate. Me ne sono ricordato all'ultimo. Allora, il problema è adesso è trovarlo. Sarà uno di questi qua verdi? Scuola... Campo scuola... No? Ecco. Armando Picchi. Però aspetta, allora andiamo dove c'è la posizione. È qua. È qua. Sì. 13 metri. Punteggio pieno. Sì, qua. Oddio, che stadio... Ah. È quello di Roma. Oh, che figo la piazza. Cioè, guarda... Cioè, guarda che bella è la piazza. Allora, il problema è... È in che zona... È lo stadio Roma? Allora... Cioè, in che senso? In che punto dello stadio? Perché so dov'è lo stadio. Aspetta, è qua, è qua, è qua, è vicino, ragazzi. Ecco qua, è qua, è qua. Il problema è che... Non so dov'è. Allora, se questa è la piazza... E lì c'è lo stadio Marmi... Foro Italico... Qua sarà. No, è più adesso. Vabbè. Oddio, un altro stadio gigante. Aspetta, sa che non mi ricordo... Aspetta, forse si vede là lì. Ah, il Verona! Ah, ci sono stato io a Verona. Allora, però, in che parte è di Verona? Ah, sì, che parte è dello stadio? Perché so dov'è lo stadio. È qua. Allora, aspettate. È qua dove c'è vicino anche la stadio. Eccolo qua. Il problema è... In che zona è dello stadio? Cancello est. 3 C est. Sarei in questa strada. Ragazzi, 9 metri! Oddio! Ho indovinato. Oh, Cagliari. Ma... Ma un po' più difficili, no, eh? Il bello è che mi mettono nei sedi in cui non si posso muovere. Che palle ho. Allora, il Cagliari, il Cagliari, il Cagliari, il Cagliari, eccolo qua sulla costa. Ah, ecco, quartiere di Santa Elena. No, che cosa dico? Ecco, un Impost Domus. Eccolo qua. Mi fate vedere però lo stadio, per favore. Perché altrimenti non so come... Vabbè, mi metto qua a caso tanto. Vabbè, l'altro era impossibile perché non mi faceva mettere proprio la mappa dello stadio. Allora... Asmettiamo di mandarmi nei stadi in cui conosco già, per favore. Tipo, alti di serie B, cos'è? Vogliamo discriminare l'essere B? Eh? Solo quelli di serie A, adesso non devono uscire? Eh? Bravissimi proprio. Vabbè, Kiss, tanto qua ormai. Mente, uno strano diverso. Sì, ragazzi, ho scoppato perché mi uscivano tutti quelli che mi erano già usciti praticamente. Cioè, che avevo già indovinato. Qua si può muoversi, eh? È una zona in montagna. Comunque... Allora... Avis. Non so. Aspetta, qua c'è con una scritta. Vediamo se riesco a capire i cartelli. 5. Curva Sud... Sud Rozi. Oh, cavolo. Curva Sud Rozi. Però aspetta, secondo me... Allora, secondo me lì ci sarà scritto qualcosa. Vabbè, non c'è scritto, si sarà scritto il nome dello stadio. Cos'è? 1900? Ah, è Ascoli! Ascoli Calcio! Ecco perché mi sembra familiare. Comunque, lo stadio... Aspetta, però devo trovare Ascoli. Eccolo qua, Ascoli Piceno. Ascoli, 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 Ascoli. Ecco, stadio del Duca. Però aspetta, farò andare dove sono partito. Qua sopra che guarda il... Nostagio, quindi prima di arrivare qua. Sarà qua? 5 metri! E vai! Ok, ritorniamo ai stadi di Serie A. Sa che non so cosa... Sinceramente qual è questo? Allora, è molto grande. Però non so dov'è. Qua ci sono le scritte, aspetta. Aspetta, cos'è? Non lo so. Ah, è il Toro! Il Torino! Però non so in che via è quello stadio di Torino, sapete? Non so neanche in che via è. Aspetta, adesso troviamo il primo cartello... Il primo cartello con la via. Anzi, ritorniamo a dove ero. Qua ci dovrebbe essere scritta la via. Non c'è scritta la via. Non ci credo. Non c'è scritta la via, cazzarola. Impossibile, eh. Impossibile che non c'è scritta la via. Vabbè, tentiamo. Allora, sicuramente è a Torino. Beh, ovviamente. Dove cazzo è? Allora, questo è l'Alliance. Questa è Torino. Ah, eccolo! Olimpico Grande Torino. Però in che zona è? Aspetta, qui c'è un'altra strada. Da dietro c'è un'altra strada, comunque. Però secondo me è una porta un po' più... Aspetta, fammi vedere. Potrebbe anche essere qua, eh. Perché qua c'è la metro. C'è il tram qua. Sì, è il tram. Sì, è qua. È qua, praticamente. Qua dove c'è la zona tram. Qua, all'inizio. Due metro. Due metri di differenza. Next round. Next round, questa è l'ultima. E non potevamo finire senza la scala del calcio. San Siro. O per gli amici Giuseppe Meazza. Quindi andiamo qua a Milano. Ecco, Stadio San Siro. Allora, dove c'è il museo? San Siro Museo. Eccolo qua. Qua sarà. No, maledetto cartello. Vabbè, è uguale. Quattro, accidenti. Totale in 15408 punti. Che figata. Sicuramente farò ancora video su questi... Su questi... Su questo gioco, sicuramente. Vi dico già che su Instagram inizieranno a uscire anche dei sondaggi su dove dovrei fare il prossimo GeoGast. Cioè, dove dovrei indovinare altre cose. Quindi, grazie ragazzi per la visione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare il like. Vi ricordo anche per essere aggiornati su tutto il contenuto. Perché pulico ogni giorno e cliccare la campanella. Per essere sempre aggiornati su tutto quello che faccio. Quindi, grazie a tutti della visione. Arrivederci.